Impennata dei contagi nelle ultime 24 ore in provincia, sono 110 pazienti positivi di Caltanissetta, 89 di Gela, sono 389 in tutto i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, si conta anche un decesso e intanto aumenta pure il numero dei ricoverati nel reparto di malattie infettive, sono in tutto 45. Nel dettaglio a Caltanissetta sono 646 positivi in quarantena domiciliare, sono 5 invece i ricoverati in malattie infettive, mentre a Gela sono 771 i positivi in quarantena domiciliare, sono 13 i ricoverati. Per un totale di 2943 positivi in quarantena domiciliare, il reparto di terapia intensiva è ancora chiuso.